Oh, non so se ci sono dei curiosi, curiosi nel senso proprio questi che stanno facendo, che c'è questi giocattoli ai piedi. Vi spiego, vi spiego perché poi magari può interessare. Praticamente noi cerchiamo in due di fare quello che fanno in 4-5 persone, giusto Mauro? E tu mi dai una bella manforte. Praticamente con i piedi sto suonando una batteria, composta da cassa, charleston, rullante, sponda, giocherelli mali, insomma. Ok, con i piedi faccio questo. Con le mani suono una chitarra, che è una normale chitarra, in più si aziona un tasto, una cosa un po' particolare, riesco a emettere un suono di un basso. Non so se lo sentite. Sentite? Una cosa del genere. E ovviamente Mauro, la fisarmonica, ecco tutto qua. Per questo sentire dei suoni, dicendo, ma questi hanno le basi. No, assolutamente, ci teniamo a dirlo, facciamo tutto dal vivo. Grazie. E andiamo avanti, facciamo ascoltare Luca Barbarossa, artista romano, non poteva mancare in questa rassegna di questa sera, 1981, Roma spogliata. Grazie a tutti.